One Man Show è un titolo importante nel quale ho cercato di racchiudere le mie passioni principali che sono quelle che arrivano anche se vogliamo un po' dalle ore, dai giorni degli anni passati e trascorsi negli studi di registrazione e quindi la batteria, il basso, l'organo, la chitarra e tante altre cose che ho avuto il modo di assaggiare One Man Show e canto Però c'è una particolarità, non è che questi strumenti saranno suonati in che modo? Cioè come si compone la scaletta del concerto? La scaletta del concerto si compone attraverso una serie di canzoni che ho scelto che sono del mio repertorio e durante i pezzi creo degli scambi musicali attraverso la batteria e poi ad un assolo di organo anche nello stesso pezzo o ancora più semplicemente avvalendomi magari di un solo strumento ma facendolo suonare un po' da musicista e non da cantante che si accompagna in quel momento quindi dedicandomi a qualche assolo in più cercando di avere quanto più dialogo con lo strumento e farlo cantare nel momento in cui lo utilizzo Le canzoni mie sono maggiormente tutte quante scritte, pensate e forse dettate dal mio cuore, dal mio essere e trattano maggiormente l'amore, trattano i temi degli abbracci, i temi della serenità che è quello che spero da una vita intera attraverso la mia musica anche con poche parole vorrei sempre riuscire a trasmettere una serenità augurandomi per tutti la migliore sorte e attraverso una canzone si può fare perché la canzone è il circuito che lega, che muove il mondo assieme all'amore che è la fondamenta di questi pezzi che faccio riscoprire ancora una volta questa sera al One May Show grazie grazie grazie